E buongiorno a mia amata e pusola e gamers, dreamers Ah fa niente, tanto mutavo un attimino l'audio, non era un problema, va bene, riparto da capo Sei pronta? Sì Ho già spoilerato che ci sei E buongiorno a mia amata e pusola, dreamers, gamers e tutto quello che volete Come state? Spero tutto bene Io vi voglio tanto bene, siete le mie pusole e paperotte, ormai Franci le chiamo anche paperotte Perché sai mi piacciono un po' i paperotti, non ce l'ho più, mi mancano tanti, quindi loro sono i miei paperotti E benvenuti in questo nuovo video, nuovo, veramente nuovo perché ci stiamo per catapultare nel magico mondo del McDonald's Franci a te piace il McDonald's? Sì però non ci vado da una vita Neanche io, siamo andati ieri Allora, devi sapere che io lo adoro tantissimo, proprio mi piace, è il mio preferito il McBacon, il tuo? Il Crispy McBacon, mi piace Ok, quello di tutti, esatto, è il mio preferito E come potete vedere siamo dentro in una specie di parkour che ancora non abbiamo provato Siamo anche vestite proprio da... È vero, è vero, siamo vestite da come se il McDonald's Guarda questo qua che paura è che... Oddio, oddio E allora, che cosa succede? Che qualcuno di voi mi ha scritto Sabri, prova questo gioco E quindi io e la Franci ci stiamo imbattendo a provarlo Non sappiamo ancora come funziona, lo scopriremo strada facendo, giusto? Sei pronta Franci, faccio strada io Sono pronta Sto guardando classifica, inventario, ah nel mio inventario a vuoto diciamo, a posto Un attimino che lo chiudo Ok Allora, ci sei? Devi cliccare sul tasto Sì sì Ci sto Vado eh Io e te non siamo molto bravi a fare parkour Questo lo sappiamo perché abbiamo provato a fare il parkour Il manager è andato in... è impazzito È impazzito Brava Franci, brava eh Abbiamo qui davanti Aisha Qua vedo che mi sa... si possono comprare delle cose ma noi proviamo a fare... Ah, non andare sulle strisce Ho notato Franci che ti è successo qualcosa Allora saltiamo Le strisce uccidono Ma hai citato Franci, hai citato? Ma non vale se una parola che è inter No Però lo farò anch'io Sei morta? Sì Ah, io sono viva Tavolta sembrando delle salsicce giganti Dai che ti aspetto Guardate Franci la cheater Mi sa che i check point sono questi qua del McDonald's Ok, sono arrivata Cosini rossi a terra, sì Ma questi qua che cosa sono? No, vabbè ragazzi, è un problema Franci sei morta ancora? Non lo so che cosa... Vuoi comprare un tappeto volante per 949 soldi C'è qualcosa che non va, è tutto baggato Io sono arrivata, guardami Oh, sono morta per venire da te, Franci Ti dico solo questo Non è colpa mia Qui ci sono i Russell giganti Non è colpa mia Ah, ho capito Franci Se tocchi la M è un check point Ok, ma questo si compra Sì, ma costa mille Il flying carpet Noi non vogliamo ci stare, eh No, no L'hai comprato? Ma se costava di meno, anche sì No Costa tantissimo Ma se costava di meno, anche sì Ok, check point Ho perso la cuffia Uso le cannucce Bellissime le cannucce Allora, io vado in questa Mi sto cheatando Guarda come cheat anch'io Oh Ho cheatato, Franci Ehi La mia amica Cheater mi ha insegnato Oh E chi sa che la mia amica Cheater Ok Cosa ci dice il nostro Ronald? Ah, si vuole nella Coca-Cola Ah, è mortale? Vuoi comprare il clown per 79? Vabbè, il clown lo compro Voglio vedere che cos'è, Franci Ok, vai Allora, nell'inventario Di che sei? Eh, sono ferma perché ho comprato qualcosa Ma, Ronald Ok, cosa faccio con Ronald? Non lo sappiamo Ti sei trasformato in lui Veramente? Aspetta che mi sei aperto Mi sei aperto lo shop Chiudi lo shop No, sono Ronald McDonald Però non ho la parrucca Perché? Sì Ma no, ma io voglio la parrucca Sei piuttosto bruttina Senza offesa, eh Grazie, Franci Sì, sono bruttina Un pochino, pochino E vabbè Ce l'hai fatta a farle Sono morta Ce l'hai fatta a farle Coca-Cola? Sono questo Io sti sospettando qui Arrivo, eh Mi vedi? Ok Ce l'ho fatta, Franci Ma qui ogni Qua 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 Esatto È un gioco per gli shop Cioè, per noi Allora No, mi sa che quella è qualcosa di lava Non va bene, eh Eh, no, credo di no Chiamo la barca Nuota Vai Ah, si compra la barca Si compra, ovviamente Si compra la barca Ma noi non la compriamo E come facciamo ad andare avanti? Si nuota, si nuota, vieni Si salta, non si nuota Ragazzi, ma si può sciupere tutto Ma che gioco è? Ah, siamo nel ketchup Franci, guarda Sono rotte le bottiglie di ketchup Sì Ti vedo le mutande Franci No, è impossibile Perché c'è il pantalone Hai ragione C'hai i leggings E tu quella è in mutande Sì, è vero Sono in mutande Perché fa molto caldo Ma mi vuoi dire che Per la prima volta Ricciamo a finire il primo livello? Davvero? Ma non lo so Stiamo andando nell'Happy Meal Happy Meal Adoro Ci sono i miei Black Nugget Happy Meal Lo prendevo sempre Quando ero piccola Per la sorpresa Che poi tanto Non ci giocavo mai Con la sorpresa Però ero felice Allora Ma ultimamente Stanno facendo le sorprese belle Salta sopra le patatine Sì Non le ho più prese Perché prendo il crescimento No, non saltare sulla patatina Ma Ah, giusto C'è scritto salta oltre la patatina Che feste che siamo Ok Ma perché è difficile A evisare le patatine Le patatine sono così buone Sono morta Ho preso la patatina Ma hai visto Che abbiamo una Vorremmo andarci addosso Ah, vedevo Che avevamo una palla Addosso Una sfera Ho detto Boh, magari è qualcosa Che ci aiuta per qualche secondo Invece no Muori lo stesso, Franci No Sì, sì, muori Ok Eccoci Ci sono, Franci Vai Prossima Questo Questo Ok Ketchup Sono sicura che bisogna evitarlo Eh, direi che sì Chissà perché ho questa vaga sensazione Non l'ho evitato, Franci Ho fatto Eh No Anche io Anche tu Allora, io faccio così Vado di qua Che mi sembra più piccolo Eh, avevo fatto anche io così Sono morta ancora Sì, ho visto Non sono bravissima Raga Abbiamo problemi col ketchup Ce l'ho fatto Ce l'ho fatto Ok Eh, ma infatti a me piace la maionese Anche a me Devo dirti Mi piace tutti e due Ma sì, devo scegliere Provisco la maionese Ah, no Ero andata troppo avanti Non l'avevo visto È l'acqua con i franci Anche io sono morta Eh, perché c'ha la puzzite Sono morta Mi mette non piace lavarti E quindi l'acqua non si va Giusto Ok Ci sono Forza, Franci Ci sono, dai Ma sei bravissima Sei morta Non posso tornare indietro Arrivo, arrivo Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta Oh Eccoti, eccoti Dove siamo? Allora Ma ciao Stai attento al laser Ok, stai attento al laser Vabbè, facile Non so, ogni cosa che fassi Ti chiede di comprarlo Ma me non me lo chiede più invece È perché l'hai comprato Ah, era solo la cosa di Ronald Sei? Sì Ok Che cos'è questo adesso? Scappa da questa parte Vai, scappiamo allora Di qua, pronta? Adesso mi chiedi di comprare il prodotto burger No, attento No Tenta le patatine Ma non si sono mai viste le patatine Ops, mi hanno ucciso Delle patatine che mi uccidono Non possono perché sono talmente buone Franci, a parte che sono morta Sai che mi sono comprata la frigitrice aria Per provare le patatine? Vengono alla fine del mondo Io già ce l'ho Io l'ho comprata ma non le ho ancora provate Cioè non le ho ancora installate Ho comprato quella che si attacca con Alexa Ah, e vabbè Tu sei C'è la casa domotica Tu no? Tecnicamente anche io Ma la mia luce si rifiuta di collegarsi agli internet Veramente? Sì Franci abbiamo colpo Ma perché stiamo volando nel nulla? Ma abbiamo vinto Non so, io mi vedo che stiamo volando nel nulla No, io sono qui Siamo nello spazio Dove sei? Sabri Mi ha fatto tornare indietro Quanto indietro? Devo rifare la griglia Arrivo Ok Mi si era pagato il livello Io non vedevo questo Mi sono vista volare I fan sono testimoni Sono testimoni Fan Ok Siamo nello spazio Tu la mangeresti una mega patatina grossa così? Sì Anche io Voi fan se la mangeresti Mi metterei piano piano E la mangeresti tutto il giro Piano piano Sulla nocchiala così Però non dovrebbe diventare fredda Altrimenti non sono buone le patatine fredde Che fredde Aspetta Franci Prova a comprare una cosa Laser gun Vediamo che cos'è Non spararmi ti prego Ho comprato Ho speso mille Ho speso un sacco Ho sbagliato Cosa succede? Cosa stai sparando? Niente Ho comprato Ho speso mille Robux per niente È uno scam Mi hanno scammato Tipi di Robux Ridatemeli Vediamo se ti sparo Ehi ehi No non ti posso sparare Meno male Vado sulla cannuccina Vado eh No non voglio comprare il tappeto Qua vogliono proprio prenderti i soldi eh È solo il gioco di McDonald's Per i ricchi Franci ma sei salita sulla cannuccia? Sì ma ho sbagliato strada Ah infatti non si va di qua Io ti ho seguito come una polla Franci ma siamo bravissime qua eh Guarda che roba Ma sì ma però non secciarmi Non ti? Ma però secciarmi Se? Non sai cos'è No La seccia Cos'è secciarmi? È un modo di dire napoletano per dire Non mi yellare Ah yellare Prendi questo No aiuto Aiuto Non ti porto su Soltuna Sì Sto saltando su Franci sono i McBacon Guarda No questo è quello doppio Quello doppio come si chiama? Eh ma quello doppio c'è l'insalata Big Mac Questo non è un Big Mac Perché guarda non ce l'ha l'insalata Sai dovremmo provare a farli a casa I Crispy McBacon Hai ragione È vero Brava Sì è che il problema non ti verrà mai uguale Perché il McDonald's ha quel sapore chimico buonissimo Io lo adoro È vero non vado da una vita Sì ma da quanto non perdiamo Oh Oh Non lo so Ma smettila Questo lo vinciamo il gioco Non ti voglio secciolare Secciare Secciare Franci sono caduta Mi sono secciata Dai Mi sono secciata No anche io Ti ho secciato Non volevo secciarti Perché devi saltare destra e sinistra Come quando hai la pensazione di ripeterla questa parola Non va ripetuta? No la fai ripetere Ah ok Hai imparato la parola nuova Sì Sono una napoletana doc ormai Mamma mia Questo sapere questo Franci Come volano Vai prima tu Ecco questo voleva evita Ah Erano scomparsi Devi stare attenta Franci Erano scomparsi Ma niente Ok Oh no Franci Dai che sono Vai vai veloce Brava 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 Pronta qui Andiamo No Allora devi aspettare Franci ti ho ucciso Scusa ti ho ucciso Andiamo Andiamo ragazzi Invece mi ha fatto andare giù Pronta insieme 3 2 1 via No a me non ci sono Se facevo anche io via Cadevo giù Va bene Allora ti aspetto Brava Mamma mia Mamma mia Eeeh Dobbiamo stare attenti qua Sempre le super patatine Ma queste cosa sono Parle di che cosa Boh Però secondo me Saranno bollicine Ah potrebbe Ci stiamo allenando talmente tanto Che poi quando andiamo a fare parkour la prossima volta Per me riusciamo a fare un livello Sfacchiamo 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 Non esageriamo eh Vabbè ma devi essere Non voglio comprare Ottimista Sfacchiamo Devi essere molto ottimista Non si può mai dire nella vita Va bene Vado sulle super patatine Mamma mia Sto tornando sulla terra Ho quasi vinto Non voglio comprare il jetpack Qua tutto ti fa Ma col jetpack scusa Scammi Perché basta volare Eh Sfacchiamo Ok ho fatto Ma questo si Ma è infinito il gioco Ma Franci dove sei andata Nella terra? Sì Mi sono lanciata nella terra Ma bellissimo Non ci credo Ma stiamo finendo il gioco Ma se lo finiamo è fantastico Siamo le vincite Soltanto poi dobbiamo trovare Che cosa registrare per il mio canale È vero Un altro gioco bisogna trovare Se lo finiamo Raga posso chiedervi una cosa Ci suggerite nei commenti No sono morta Franci No Nei commenti Quali altri giochi Che siano di Roblox Che sia quello che volete voi Ma magari in questi commenti qua Ci facciamo mettere di Roblox Quali giochi di Roblox Possiamo fare insieme io e Franci Qualcosa che vi piace Ce lo suggerite Sia per il canale mio Che per quello di Franci Vai Franci come hai fatto? Sei andata sulle patatine? No No sono Sono Dove sono? Sono qui Sì sì Devi salire sulle patatine Ok Vado eh Vai vai Fidati Ok E poi su queste qua giganti Sì Grande Mamma che percorso Passo sul checkpoint Non ti dimenticare il checkpoint Brava hai ragione Checkpoint Preso Ha fatto No Franci ho visto una polla a cadere Eri tu? Sì Come faranno i chicken nuggets? Che buoni Tra l'altro Hai presente quando magari ti capita di bruciarti O anche quando magari per in troppo sole La mia pelle sa di chicken nuggets Non so il tuo Se anche la tua sa così Ma la mia sa di chicken nuggets Non ci ho mai fatto caso Faccio caso Poi io vivo nella protezione quindi Anche io Checkpoint E ora Franci dove si fa? Patatine? Patatine di nuovo Ma poi di queste patatine che sono nell'acido cosmico No No per me sono tipo in Giappone Devi sapere che vendono sempre la soda al melone Che ha verde A me non piace ma i miei amici impazziscono Sei morta Franci? Non sono dire di te Ti ho superato Ti ho superato Ti ho superato Ah grazie Ho la lingua fuori Vuol dire che mi sto impegnando tantissimo Ok ci sei? Ci sono Ci sono Prendo il checkpoint Scompaiono Scompaiono Meno male che mi sono fermata Vado eh Guardi Che forti ragazzi Siamo le più forti Dobbiamo creare una canzoncina Un jingle per noi eh Ok Aspetta stavo per morire Ok qua è difficile eh Ok Ma comunque mi sento fortissima Non so perché c'è Allora la mia autostima è alle stelle Non so quanti livelli abbiamo fatto Troppi E tra l'altro quanti senza morire vorrai dire Io ma infatti c'è Mi sento È perché è il potere delle patatine Franci Sì È il McDonald Sicuro Dove sei? Ti sei rambicata? Sì Arrivo eh Ti aspetto Ci sono ci sono Entro nella porta Non voglio comprare niente Dove sei? Eccomi sono qui Sono dall'altro lato Girati Ah si sei già arrivata Arrivo eh Pensavo che eri dietro di me Eccomi Ok cosa c'è oltre questa porta? Non voglio comprare niente Prendo il check Non sono sicuro se è ketchup o lava Io penso sia lava Nel dubbio noi non ci proviamo proprio No e io ci ho provato invece Sono inciampata sulla cannuccia Sei scivolata su una buccia di banana? No sono scivolata ancora sulla cannuccia Ti assicuro che è lava Non è ketchup Ok Franci te lo faresti il bagno nel ketchup? Ma secondo me la pelle viene morbidissima Oh Eccomi Ti sto guardando vai Sabri Arrivata Ce la puoi fare Ups Me l'hai sicciata Franci Sei una sicciona Ups Ups Eccola Vai Grande Passi una porta Vai Non voglio Perché non si può andare? Ehm Ups È bloccata Sembra che la porta si è portata Cerca un'altra cosa E qui vieni Qui 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 Brava Bravissima Ups Ma dove siamo? Sono morta Ma come hai fatto a morire Franci? Non lo so Anche io il fumo È tossico Ok Dobbiamo scappare Il fumo tossico Ma questa patatina non si prende No Ok Aspetta eh Uh Ok Vieni a destra Sinistra No Mi ha tagliato le cosce Chi ha tagliato le cosce? Scusa Questo coso Sto a terra Ah Ok È un tappeto di lava Anche io mi ha tagliato una caviglia Difficile Ragazzi questo lo finiamo Speriamo Ok Ok Ce l'hai fatta? No Ma mi ha fatto dov'insto scomparire Non so se ce l'avevi fatto E rimasta Dai Io ce l'ho fatta Franci Ma me lo aspetto Checkpoint Certo che ti aspetto Attenzione pavimento bagnato Ti spiego da sopra Uh 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 Ho fatto Ho fatto Ho fatto Checkpoint Ok Quindi Ok andiamo Qua sopra Ok Certo che per un po' di D'acqua morire Scusa Ti sembra Eh ma vedi ci sono le cose elettriche Ah giusto C'è l'eletticità Saltiamo sui sordi allora E i sordi Sordi Ci abbiamo fatta Oh 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 Super patatine E qua Franci Ah devi buttare Si butta di butta di Vado eh Che morito Sempre soda Ops Mi sono divisa a metà Soda al melone Anche io È partito dal collo Sono morta Dai come Questo qua Dobbiamo essere invincibili Hai ragione Jump Ce l'ho fatta Dai Arrivo eh Questo lo finiamo Sabri Questo lo finiamo No dai È l'ultimo La fine Che fessacchiotta Questo lo finiamo E se non è una fine Eh Lo senti Una fine ce la deve avere Per forza Aspetta Dice scritto exit Quindi in fondato C'è scritto exit Dici Allora ce l'avrà una fine E io te siamo Le campionesse Del mcdonald Sì Eccoci Franci E per festeggiare Poi tutti al mcdonald No non l'avevo visto Che c'era un buco Sabri scompare Ah ok Allora tu mi hai fatto scomparire No da capo Franci Sabri devi girare Da quest'altro lato Ah che fessa Stavo tornando indietro Vado eh Vai 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 Sabri Vai Sabri Eccomi Ok I pomodori I pomodori Non li voglio comprare I pomodori Il pomodoro crudo Non ti piace il pomodoro crudo? Non molto Allora secondo te Allora Secondo te Dietro questa porta C'è la fine? No Spero No Ah ti dicevo Non ci credo Ce l'abbiamo fatta Invece no Ho imbrogliato Ho visto che hai imbrogliato Cheater Un'altra exit Mamma mia Dopo questo c'è la fine Ah Dove dobbiamo andare? Questa si muore Io vado nella seconda Si muore Vado nella terza Tu vai quella di sinistra Si muore Allora io faccio Allora io faccio Tutte queste di sinistra Tu fai tutte quelle di destra Senti Io vado a provare Prima la porta blu Anche io Perché sono morta in tutte È chiusa Allora provo L'ultima qua Sono morta in tutte Ok è questa Sabri Esatto Dove essere per forza quella Perché mancava solo questa Andiamo Ok C'è l'acido Attenzione all'acido Che cos'è quell'acido lì? Che prodotto No sono morta Che prodotto può essere quell'acido? Non lo so È lo svelto Ma ce l'ho fatta Non puoi mangiare lo svelto Mamma mia mi è infinito questo gioco No Sono morta all'ultimo Veramente Raga ma se voi l'avete fatto Quanto dura? No siamo da 20 minuti a fare questo E siamo fortissime vorrei dire Hop Hai fatto l'acido Io sono morta Ah io ho fatto anche quello lì dopo Cioè sei già avanti Un attimino che arrivo Ti aspetto Eccoti Arrivo eh Uh Cioè poi anche immagino che se Stacchi devi ricominciare tutto a capo Eh penso di sì Però vedi che c'è skip stage Skip to the end Cioè quindi se non ce la fai puoi saltare il livello Per andare alla fine costa Non te lo fa fare Cioè non costa Non c'è scritto Ti ho visto rotolare Uffa pensavo non te ne fossi accorta Ho visto una testa gialla Ma comunque ragazzi sono troppo forti in questo gioco Sì ma io non avevo toccato adesso Ma non ho toccato No Hai buggato No ti ho visto toccarlo Ti ho visto toccarlo non mentire No dai non avevo toccato Ma sabri mente Paraparam Pam 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 Dai dai ci sei Hai fatto quasi No Pracci Me l'hai scellerata Ok No anche qui palesemente raga è un cheat Cioè non avevo toccato È un bug Anche qua Dai ci sei andata proprio sopra Ma non è vero Tu vedi cose che non esistono Guarda io non c'avevo i piedi sopra adesso Adesso vado più avanti E così li frego tutti Ma Raga Si è buggato No Si è buggato veramente Uff Guardate la mia faccia Arrivo franti di avere pazienza Fatti un caffè intanto eh Mi sento che è quella buona Mi sento che è quella buona Checkpoint per me L'ho fatta ragazzi Beh le pizze non sbaglierò mai sulla pizza Ah la pizza La pizza non ci farà mai fare del male La pizza è sempre cosa buona e giusta Sì Infatti io non sono caduta Sono andata a girare Non c'eri No è perché mi ero fermata a mangiare una fetta di pizza Sì Sì la pizza Guarda qua c'è la Mountain Dew Che tra l'altro al nostro Mac non c'è Forse in quello americano c'è La conosci? Sì sì A Londra anche c'è Ah sì? Ma c'era arrivata Ti ho visto retolare giusto Sì ma c'era arrivata Abbiamo scoperto che la Francia è molto più brava di me in parkour Ma è anche un Perché oggi te la senti sei parecchio ispirata Dove stiamo andando Francia? Oh Ok Siamo all'esterno Sì facciamo così Esatto Se no sono gli ultimi tre livelli Ok? Ok Non devi calpestare il formaggio? Sì Non calpestare il formaggio Vuoi sapere una cosa? Ho calpestato il formaggio Anche io A posto Perché ci piace molto scalpestare il formaggio Sì soprattutto quando si attacca sotto alle sole delle scarpe è poi impossibile da togliere Ma come fai? È impossibile non calpestare il formaggio Franci Ah sì È difficilissimo Non sono d'accordo con questo livello Ah ma sai perché Franci? No devi fare il percorso No qua non avevo toccato niente Mi avevi davanti e hai visto Sei testimone eh Ma pure se non lo prendi Cioè lo tocchi Però ci sei vicino Vale Esatto Guardate raga Uff Franci Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Franci Fai così Aspettami aspettami Vieni dritto Fai un salto Quando c'è Fai un salto Brava Adesso vieni dritto Brava Bravissimo No dai T'ho visto benissimo Ti si è staccata una gamba Ok ci riprovo Se la puoi fare Vai qua qua Forza Franci Forza Franci Forza Franci One sec Ce l'ho fatta Brava Ce l'ho fatta Bravissimo Vai Ultimi due livelli Che cos'è? Eh Ti sto portando Sì Resta con me Resta con me Stiamo insieme Cosa succede qualcosa O moriamo insieme O andiamo avanti insieme Sì Non sappiamo raga Quello che sta succedendo Ci vediamo We will die Aiuto Sta vibrando Franci Siamo troppo pesanti Uno di noi ci deve sacrificare Però vedo Che cosa stai insinuando No Stavo vedendo che Ah ok Pensavo di averlo attivato io Vedi che c'era una freccetta azzurra Sì l'ho premuto io No Sabbi che cosa hai fatto? Eh ho premuto una freccetta per sbaglio Sì Driftiamo Franci Cos'è? Eh Io sparo Vosti nel dubbio Cosa sta succedendo? Sabri Ci hai accapottato? Sto schiacciando qualcosa No La nostra macchinina Franci Sono stata io Perdonami 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 Sono stata io Vabbè Ci proviamo Ah sei stata tu Neanche sono stata io Brava eh Brava Guarda devo farti Devo farti una cosa Dai Non usa la mia scuola Però c'è Guardati indietro Sembra che stiamo scendendo È vero Secondo davanti stiamo salendo Stiamo Siamo arrivati eh Siamo quasi arrivati Guarda che davanti c'è la PMIL Forse siamo alla fine Franci Alla siamo alla fine L'abbiamo finito Non ci credo Se ce l'abbiamo fatta non ci credo Continua ad andare e non arrenderti Ok Sulla patatina Sì Ero sulla patatina Sono morta lo stesso Com'è possibile Sono scivolata dalla patatina Ok Ok Ah è lì la fine Sabri È la fine? Veramente? No no guarda da questo lato È vero Mi sono buttata giù Ma credo che quella sia la fine Eh sì perché è l'happy meal che vedevamo Sì credo di sì No raga allora ce la facciamo eh Me la sento Non riesco a stare sulla patatina Ah perché devi saltare Franci t'ho visto un po' male eh Anche a te E allora infatti t'ho seguito Perché siccome t'ho visto male Insieme fino alla fine Esatto Franci Ce l'ho fatta anch'io Andiamo Checkpoint Sui chicken meal Sui panini Che li adoro Mi andrebbe da morire Solo che l'ho già mangiato ieri Non si può mangiare McDonald's tutti i giorni Voglio fare un video Io mangio solo McDonald's per una settimana Vedrai cosa mi succede La patta dei bambini La play ball dove sono caduta Anche tu Ho visto eh Così poi ti veniamo a trovare tutti quanti all'ospedale Esatto Il tuo super piatto preferito Questo è difficile Allora Credo che il mio piatto preferito 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 Siano le pennette Non le farfalle Sono morta Con Peperoni Panna E salsiccia Non lo mai assaggiate Eh lo faceva Lo faceva mamma Era buonissimo Allora Peperoni Panna E salsiccia Eh Voglio fare un video dove lo provo In tuo onore Ok Ok puoi fammi sapere Va bene Con le farfalle Con le farfalle Ok Ero arrivata alla fine E sono morta come una fessacchiotta Ok Oh sono entrata Nell'happy meal E sono Non è finito Non è finito No Credevo che nell'happy meal sarebbe finita Anche io Ragazzi abbiamo raggiunto l'happy meal Visto che non sappiamo ancora quanto sia lungo Io per ora direi di stoppare qui Franci ti va Perché almeno continuiamo nel tuo video Che dici Continuiamo nel mio Aiuto Salen Così Se voi non avete visto ancora il video di Franci Potete andare a vederlo Se avete visto quello di Franci Poi ricordate di andare a vedere la prima parte Giusto Sì Esatto Allora Sono pronta Franci Aspetta che stoppo la registrazione Facciamo questo outro per le mie pusole Paparotta Dreamers Vi vogliamo tantissimo bene E non vediamo l'ora di incontrarvi Almeno io le incontro un po' Lo sai Franci Ho gli eventi Sì 27 giugno a Serbia 4 luglio al mercato dalla mia nonna Al mercato di Angera Varese E il 31 luglio ad Albarella nell'isola Beato a te Se vuoi puoi venire Se riuscissi a venire sarebbe bello Le faremo sapere Vi faremo sapere Ciao amori miei Vi mandiamo un bacio grandissimissimissimissimissimissimo E speriamo di incontrarci presto Ciao amori Ciao amore Ciao amore